Nella sala incontri dell'ufficio a relazioni con il pubblico del Consiglio regionale del Piemonte in via Arsenale a Torino è esposta la mostra a fumetti SOS Animali in Pericolo. Costruiamo una nuova arca. Curato dall'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, l'allestimento si propone di parlare di tutela e cura degli animali, soprattutto ai più giovani. La mostra è visitabile fino al 12 dicembre, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Grazie.